Dal comune di Avellino arriva il primo atto ufficiale dell'era Ciampi. Il segretario generale, Riccardo Feola, ha disposto il divieto assoluto a tutti i dipendenti comunali di comunicare con gli organi di stampa, rivelando notizie d'ufficio e diffondendo atti riservati. In caso di inosservanza della disposizione verranno attuati tutti i provvedimenti disciplinari opportuni e necessari. Nell'ordinanza, che a dire il vero è la seconda emanata dopo quella delle carte d'identità a cui è stato tolto il limite per lo sportello anagrafe, si premette che tra i doveri dei dipendenti comunali è il rispetto dei segreti d'ufficio, così il divieto di utilizzare informazioni per fini privati. Un'ordinanza che lascia quanto meno perplessi e che ci spinge, non volendo in questo contesto, entrare nel merito dei contenuti, vogliamo lasciarvi con due domande. La prima, c'era davvero bisogno di ricordare un dovere già contemplato nel regolamento disciplinare dei dipendenti del comune e che pensiamo tutti i lavoratori di Palazzo di Città conoscano bene? E ancora, perché questa ordinanza in questo momento, quando il rapporto tra giornalisti e personale del comune è stato sempre di grande cordialità? L'unico risultato sarà quello di creare un clima di tensione inutile e inopportuno per tutti.